bottiglie bottiglie in giro però non sai quanti d'oro sono morti quella villa che diceva che ho organizzato pizzo sei due sette e mezzo dopo salita piano di sopra non sai quanti d'oro si vanno a capa sotto ma proprio non può fare le ragazze Giorgio è il cambio secondo non ti segui puoi puoi fuori fuori ma cario è fatta le sfide a capo d'anno e te le fa bene dai Giorgio dai dai Giorgio bravo dai Giorgio dai Giorgio dai Giorgio dai Giorgio dai Giorgio però non trovo un posto in inverno non potrei mai ascoltare inverno è l'otto la Fomoteca in inverno è l'interno se si sceglie se si sceglie la Ciglia è la Tanna e ma capisci è stato tutto acceso guarda chi si può viene a grado ci ha già fatto il fotografia non so se ci fanno come siamo non sai perché è fatto non so per via dell'ho fatto la cosa era a chi sai eh si pensa mai sbagliato schiurati qua giù che ha fatto? nera no Luca 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 è netta Luca è giù è giù invece non lo so è giù invece è giù invece è giù dai dai stai eh ora dai non lo so ragazzi guardate il pallone c'è lui al centro al centro eh dai partita dai stiamo tirando un marito partita dopo partita si se la fa dai chiamolo stami spiazzato dai fai che vuole eh quack quack quack